Ugo rispondi al telefono Ugo rispondi al telefono Il telefono squilla Ugo 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 Hanno rapito miele Il mio micio Il mio povero cucciolo Ugo salvalo Cosa hanno rapito miele Dai su cosa aspetti andiamo a salvarlo Poverino Ok aspetta che sistemo un attimino la telecamera Mi metto qui Ok Ok vai tira la leva L'altra leva Ugo Oddio Ugo L'altra leva Ugo Non era quella giusta Ora clicca quella giusta per favore Forza vestiti Non c'è tempo Vai Ugo vai Ugo si mise subito in viaggio Non sapeva quanto il suo viaggio potesse durare Ma una cosa era importante Ritrovare il suo migliore amico Attraversò biomi su biomi Ma mai nulla Il suo viaggio sembrava impossibile Fino a quando Non trovò una grotta Una grotta profondissima Lì dovete sconfiggere migliaia di mostri Perché quella non era una semplice grotta Come tutte quante Ma in questa avventura contavo solo una cosa Salvare Miele Non farti notare Ugo Smettila di attirare la sua attenzione Vai a salvare Miele piuttosto Sei un demente E Miele salvo Salve a tutti gneagnosi e benvenuti in questo nuovo tutorial Vuoi diventare un eroe come Ugo Per essere un eroe devi essere veloce Dunque ti devi vestire anche veloce Non puoi sprecare il tuo tempo a prendere l'armatura Le armi Cercare le pozioni E tutte le cose che ti servono per essere un vero eroe Quindi questo tutorial ti insegnerà a fare un armadio Che ti vesti in automatico Iniziamo da una base semplice Mettiamo un blocco centrale Sopra piazziamo un distributore Dietro un osservatore Mi raccomando La faccia dell'osservatore Deve guardare dietro Non notate anche voi la sua faccia apatica Mettiamole un altro Ma questa volta con la faccia frontale Scaviamo E mettiamoli un pistone appiccicoso sotto La reston sotto la nostra struttura Facile vero? Ora devi soltanto decorarlo Beh, ora piazza la tua armatura dentro al distributore E quando l'accenderai Ta-dan! Vestito in automatico Esiste anche una vecchia versione Questa è la struttura Anche se la vecchia struttura Essendo grande E' anche molto scomoda Perché bisogna mettere ogni pezzo di armatura In ogni distributore Ora l'unica cosa per diventare dei veri eroi E' una mappa avventurosa Criamo un nuovo mondo Gli diamo un nome Modalità sopravvivenza Clicchiamo altre opzioni del mondo E tipo di mondo Personalizza Sotto clicchiamo preimpostazioni Clicchiamo sopra Premiamo CTRL A Per selezionare tutto E cancellare In descrizione vi ho lasciato un codice Dovete copiarlo E incollarlo Sopra Per tutti quelli che non lo sanno E CTRL V Bene Creiamo un nuovo mondo All'inizio vi sembrerà Un normale e banalissimo Mondo di Minecraft Ma se andiamo a vedere sotto Ci sono una marea Di mob spawner e dungeon Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo in un prossimo video E Pui pui Noi ci vediamo in un prossimo video Noi ci vediamo in un prossimo video E Grazie.